Bella a tutti ragazzi, qua Argasmic e sono qui con un nuovo episodio dei Summer Potential Transfer. Prima di iniziare questo episodio, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, al 300 mi piace uscirà un nuovo episodio e come sempre scrivetemi nei commenti qualche nome, qualche rumor di mercato per aiutarmi a creare poi i video successivi di questa serie. Comunque, partiamo con i tre giocatori di oggi, tre giocatori legati alla Serie A, tre giocatori in entrata e quindi parliamo subito con il primo, cioè Carlos Bacca, che al 99%, e sottolineo il 99%, dovrebbe arrivare al Milan. Faccio questa puntualizzazione perché non vorrei che si verificasse ciò che si è verificato qualche giorno fa, settimane fa, con Jackson Martinez, quindi sono un po' più cauto. Comunque dovrebbe arrivare perché il Milan ha già l'accordo sia con la società che col giocatore, pagherà la clausola di 30 milioni di euro del Siviglia e in più offrirà un quinquennale a Bacca di, penso, 3 milioni all'anno o 2 e mezzo adesso non lo so, però vabbè c'è poca differenza. Allora, il prezzo del giocatore secondo me è giusto perché è uno dei migliori d'Europa come attaccante che gioca in Europa e disponibili sul mercato non è che ce ne siano granché. Quindi penso che il Milan abbia fatto un buon affare, lui ha 28 anni, molti l'hanno definito vecchio, 30 milioni per un vecchio, una follia, in realtà Bacca non è vecchio, cioè ha 28 anni, ne fa 29 a settembre e ha ancora molti anni per giocare e lui ha iniziato a giocare tra l'altro non troppo tempo fa. Io comunque ritengo che sia un ottimo giocatore che ha un problema di fondo, cioè quello di non trovare per ora nel Milan un giocatore che gli possa mettere i palloni, visto che lui è un finalizzatore, un giocatore ad area di rigore e ha bisogno di, non so, una seconda punta o un trequartista, poi dipenderà da come giocherà Sinisami Aelovic, però ha bisogno appunto di un giocatore che gli faccia gli assist. Comunque, andiamo con il secondo giocatore di oggi, stiamo parlando di Stefan Jovetic, che, a parte che in questi anni è sempre stato un po' legato alla Serie A, da quando è al City, comunque potrebbe, dico potrebbe, andare all'Inter, visto che è una notizia che sta uscendo in queste ultime ore di un possibile interessamento dell'Inter per il giocatore Montenegrino, con un passato alla Fiorentina, un grosso passato alla Fiorentina, è andato al City, non ha brillato per via degli infortuni e per via, magari, anche del campionato in cui non si è adattato e per via dei mostri sacri, ovviamente, che aveva davanti Stefan Jovetic. Penso che potrebbe essere un buon acquisto per l'Inter, che si aggiungerebbe poi a un attacco molto buono come quello di Icardi e Palacio, bisognerà vedere, ovviamente, se arriverà, perché lui dovrebbe essere l'alternativa a Salah, visto che Salah è un giocatore che Mancini vorrebbe, però è ancora legato alla Fiorentina e bisognerà vedere, appunto, se resterà alla Fiorentina. Comunque, in questi giorni avremo più notizie a riguardo, quindi sapremo come andranno, appunto, le cose. Andiamo con il terzo giocatore di oggi, cioè, stiamo parlando di un altro giocatore del City, tra l'altro, cioè Edin Dzeko, che in queste ore, in questi giorni, anzi, si sta parlando molto della Roma, che potrebbe prendere Dzeko come punta. Come abbiamo detto negli scorsi episodi, quando si parlava di Bacca, che la Roma ha sempre bisogno di una punta, è proprio il giocatore che gli è mancato, forse, quest'anno per l'attacco. Dzeko potrebbe essere il giocatore che potrebbe risolvere questa lacuna, questo problema, questo buco della Roma, però c'è un problema, cioè quello di De... di... non di destra, scusate, di Gervinio, che doveva andare all'Al Jazeera, se non sbaglio, però, per una serie di incomprensioni o robe strane, sembra non andare più e doveva essere pagato circa 15 milioni e quelli potevano essere i soldi da investire su Dzeko e quindi bisognerà vedere poi dove andrà e quanto verrà pagato poi effettivamente Gervinio. Però comunque la Roma dovrebbe vendere in questi giorni, o comunque a breve, Mattia Destro, probabilmente al Monaco e quindi farsi altri soldi per poterli appunto investire su Dzeko. Penso che Dzeko potrebbe essere un buon attaccante per la Roma, è veramente un attaccante molto buono e quindi appunto potrebbe fare bene, poi adesso non si sa. Vedremo comunque successivamente maggiori informazioni per questi giocatori. Comunque raga, il video finisce qui, come sempre vi invito a lasciare un bel like, 300 mi piace uscirà un nuovo episodio. Come ho detto prima, nei commenti scrivetemi qualche rumor di mercato che avete sentito, anche magari di campionati esteri, così non facciamo magari solo Serie A. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!